Dario com'è la canzone? Com'è la canzone? Dario! E canta! No! Dai mo! Ma tu ti prendi dal volo queste cose? No mo dai, con lo sfondo delle cale, bellissimo! Con lo sfondo delle cale, vai! E Gio, fai un video a questi che ti fanno male, no? Vai Dario! Dai, canta con lo sfondo, se mi provo un video! Ma no, ma tu lo fai sempre su Youtube! No, vai! Eh dai, dai! Ma perché no? Di cogliere al volo! Ma al volo, come faccio tu? Dai, è bellissimo! Con lo sfondo dai, dietro! Ma che vuoi fare? No, no, canta non discordare mai di me! Nooooo! Nooo! Fai che sveglia qui! 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 Mario! Fai che sveglia qui! Ci sveglia qui! Fai che sveglia qui! Nooo! Non ti scordare! E vi vuoi eh? Non si tuffano! A giuria! Ti aspettavi! Eh, mi chacchia fette tutte! Dove? Da Cabo Miselo. Ti sei butto a 12 metri? No. E tu sei fatto male? Dal fungo, no. Dal fungo? Si chiama così. Ah. Da Precipiti, a Candela. E' stato emozionante. Molto. 35 volte. Una lana dopo, una lana dopo. Più più. Si muoveva un padre. Si muoveva un padre. 보... Si muoveva un padre. Si muoveva. a poco niente a medicare un po d'amore per favore per favore non così nessuno è schiavo di nessuno forse merita un po' d'orgoglio e dignità parliamo un po' del 2012 Dario che cosa accadrà nel 2012 secondo la profezia dei Maya? sarà la fine di questa era l'inizio di una nuova era sarà dalla costellazione? dalla costellazione dei pesci a quella degli acquari questo cosa comporterà? lo porta al cambiamento di postellazione poi quello che succederà se non ci succederà se l'inclinazione dell'asse terrestre fondamentalmente da questo spostamento quindi cataclismi? spostando l'inclinazione dell'asse terrestre se qualche cosa cambierà se qualche equilibrio cambierà quello che l'equilibrio che c'è adesso insomma non è che sarà mantenuto già si vede no? tu aspetti con ansia questo momento permesso no! 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 io sono meglio io sono meglio io sono meglio hai pod hai pod Non ti scordare mai di me Siamo vicini vicini Dai Dario Di ogni mia abitudine Eccolo E non è un piccolo particolare Muovi solo le labbra Dai Dario Dai Dario E da quella volta ho voluto provare un'emozione fortissima La mia vita piatta doveva subire una svolta E allora ho deciso di trovare il ciambellone di Lorenzo Ciao dalla notte Dario E vai Non ridere Mi fa lunga No Peppe dai Peppe che intervista lo sciupato No questo lo devo preparare No vabbè intanto improvvista Quanto sa mai che non c'è la videocamera Ci ho pensato pure prima Sì Ah va là continuiamo Continuiamo Ho provato il ciambellone Ma era prima del potere Fammi sapi tu allora Ci vediamo dopo allora ragazzi Ciao Dario Ciao Vangelo Ciao 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 Ciao